Un'area di quasi 15.000 metri quadrati, abbandonata da anni, è diventata rifugio temporaneo per senza tetto e sbandati. Sono i capannoni e gli uffici all'arancio che una volta erano della Colged, la fabbrica di lavastoviglie industriali che ha spostato la propria sede ad Alto Pascio. Entrare è semplicissimo, il cancello principale è aperto. All'interno, negli immensi capannoni, c'è il degrado più completo. In particolare i segni della permanenza di persone che qui hanno trovato rifugio e hanno mangiato, bevuto e dormito. Ci sono bottiglie di alcolici, scatole di prodotti alimentari e materassi. C'è anche un'auto, una Fiat 600 con targa del 1999, ormai semidistrutta. Qua e là le tracce di falò accesi per cucinare o scaldarsi. Nel novembre del 2012 una donna che era entrata in un capannone e aveva acceso un falò dette fuoco involontariamente ad alcuni travi. L'intervento dei vigili del fuoco evitò il peggio. Qualche anno fa il comune, all'epoca del sindaco Favilla, aveva proposto un piano di recupero dell'area per la realizzazione di un residence. Più recentemente la ex polisportiva Madonna Bianche aveva invece chiesto di mettere a disposizione gli spazi per attività giovanili. Intanto basterebbe almeno chiudere il cancello per provare a impedire l'accesso a un'area che può diventare potenzialmente molto pericolosa.